Disegna un quadrato con lo strumento rettangolo, delle dimensioni di 5,5. Attiva gli snap ad oggetto. Crea un cerchio. Imposta come centro, il vertice del quadrato, in alto a sinistra, e come raggio, il punto medio del lato del quadrato. Ripeti l'operazione anche per l'angolo in basso a destra. Traccia una linea, partendo dal punto medio del lato superiore del quadrato, e terminando nel punto medio del lato destro. Ripeti la creazione della linea per il lato opposto. Con lo strumento, taglia, elimina gli elementi superflui, come nell'immagine. Attraverso, proprietà, layer, crea dei nuovi layer, e rinominali. Riempimento giallo. Riempimento rosso. Riempimento nero. Cambia colore a ogni layer. Attiva come layer corrente il riempimento nero. Crea, con lo strumento, tratteggio, un riempimento. Utilizza il modello solid, e come campione, seleziona il colore del layer. Seleziona, aggiungi. Scegli punti, e seleziona, con un clic, le aree da riempire, e conferma il riempimento. Ripeti per tutti i layer la creazione del riempimento fino ad ottenere un risultato come in figura. Con lo strumento, specchia, crea un nuovo modulo a partire dall'immagine precedente. Copia più volte il modulo appena creato. e genera una textura. Grazie. Grazie. Grazie a tutti